I ragazzi del Rotaract e dell'Interact insieme per un scopo benefico la realizzazione di questo calendario che vi ho visti i protagonisti simpatici di questa realizzazione? Sì, quest'anno il Rotaract insieme con l'Interact Club abbiamo deciso di realizzare questa attività, quindi abbiamo realizzato il calendario Rotaract-Interact 2012 patrocinato dal comune di Canicatti. In particolare il calendario si ricollega ad un progetto distrettuale, appunto i bambini per i bambini, che ha l'obiettivo di realizzare delle postazioni multimediali nei reparti di pediatria degli ospedali del territorio siciliano e quindi questo appunto il calendario ha uno scopo puramente di beneficenza, scopo benefico. Abbiamo colto pure l'opportunità con il calendario di valorizzare il patrimonio storico-culturale delle città di Canicatti e Campobello di Licata. Infatti la location dove voi avete scattato queste foto qual è? Sì, abbiamo scattato delle foto a Canicatti, in particolare alla Torre Civica, ai ruderi del Castello Bonanno, a Campobello di Licata, abbiamo approfittato per fare delle foto ai murales del palazzo municipale e anche alcuni scatti nel palazzo ristrutturato da breve, palazzo Bella. Il calendario, questa iniziativa pregevole, anzi io ringrazio sia il presidente Dario Provenzano del Rotaract Club che Claudio Argento, presidente Interact Club di Canicatti e ovviamente i membri dell'amministrazione comunale a partire dal vice sindaco Rizzo e gli amici Cecilia Acquisto e Giuseppe Farante Bannera, i quali hanno immediatamente voluto sposare questa lodevole iniziativa, verrà distribuito attraverso il circuito Rotary, della grande famiglia rotariana, attraverso proprio una capillare distribuzione dei calendari con tutti i soci dei vari club del distretto 2110 Sicilia Malta. L'amministrazione di Canicatti è lieta di partecipare a questo bellissimo progetto, portato avanti dal distretto del Rotary, un progetto che prevede un aiuto verso i bambini, il progetto si chiama I bambini per i bambini. Io devo complimentarmi anche con il Rotary di Canicatti che ha coinvolto l'amministrazione comunale con questo bellissimo calendario, il calendario tra l'altro riproduce alcuni monumenti di Canicatti e quindi contribuirà anche a far conoscere la nostra città non solo ai canicattinesi ma anche fuori. L'importante progetto per il quale devolveremo questi ricavati è il progetto I bambini per i bambini, che è un progetto distrettuale, quindi confluiranno tutti i ricavati delle varie attività di tutti i Rotary Club e gli Interact Club della Sicilia e di Malta. Questo progetto prevede l'acquisto e dopo la donazione dei pc portatili al reparto di terapia intensiva di vari ospedali tra cui c'è anche l'ospedale di Canicatti, appunto perché i degenti, i lungodegenti presenti negli ospedali possano comunque essere in contatto con l'esterno, con i genitori, con gli amici tramite i più comuni social network o anche tramite Skype. Grazie. 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 Grazie.